Sì, una nuova esperienza appunto per crescere e per imparare appunto nuove tecniche, almeno io sto imparando tanto da questa esperienza. Divertirci, stare insieme agli altri, conoscersi. Stiamo imparando a conoscerci in campo e a scoprire anche gli altri giocatori. È divertente, è bello perché comunque impari a comportarti oltre a giocare. Nel senso dell'educazione, a rispettare gli arbitri, a rispettare i compagni, gli allenatori, quelli delle altre squadre. Cioè conosciamo molti altri ragazzi. E niente. Giorgia. Riccardo. Aurelio. Quando hai Chiara? 12. Dove sei? Di Bari, Puglia. Bravo!